Se n'è andato, fiocco di neve. Michael è stato qui? Sì, ma puoi dirgli che lo vengo a cercare. Che questa gli costa cara. Quindi Michael è stato qui? Già, ieri sera si è presentato qui e mi ha preso a pugni. Meglio per lui se dorme con un occhio solo, diglielo. Mi hai sentito, puttana? No, tu senti me, puttana? Quando hai minacciato mio figlio, hai minacciato me. Se provi ad affacciarti all'altro capo della città, giuro che te ne pentirai. Sono mica del procuratore distrettuale, sono favorevole alle armi e giro sempre armata. Che cosa hai lì, una 22? O una special da sabato sera? Sì, e spara bene anche negli altri sei giorni. Sì, e spara bene anche negli altri sei giorni.